Vite a Napoli e poi a casa mia non stai assai lontano a Napoli, certamente non stai andando via il giardino, ma tante volte dopo che disse delle feste che uno fornisce a casa scoccia perché non sapeva che fare, la proposta che si senteva più spessa è resa a pigliare un caffè a Napoli. Io non appartenevo a chi le gaffa facevano che la proposta e così sono stato uno e l'ultimo a fare questa specie di sfida. La prima volta è stata una cosa curiosa, forse perché ho già sbagliato a pigliare un vincolo da mio padre. E mi sono trovato quella macchina in una vincola che pareva cercata, in una zona con traffico limitato e pure assenza unica. E mi sono fatto pigliare un po' delle nervi e ho già cercato un parcheggio e con una moglie di marcio si è messo a camminare per, senza sapere mai dove stiamo venendo. Abbiamo domandato a una signora che ci ha suggerito la firmatura metropolitana, non perché fosse più vicina, ma perché la via era più elegante e sicura. E aveva ragione, perché i firmati erano metropolitani sono tanto belle, così come è proprio bella la funicolare. E non parliamo pure di quartiere spagnoli, che ti lascia una bocca aperta e senza sapere. E' affinata. prima di tornare a casa. Ha già accattato una bocca che mi è arrivata in Napolodocco. Quando mi è riconosciuto non voglio una che non ci arriva a far capire. I napolitani non ne ho reso che non vanno a faticare. Io mi sono scelto da un prezzo per faticare. E per fare tutte le cose sulle e meno male che in Latvia ce ne sta tante. E' buono. E' così per detto che lui voglio un gelo. E che ci vuole rispondere? La musica, la poesia, i libri. Mi pare che abbiano detto tutte le cose in questa città. Forse è perché questo, che quando sono tornato a casa, ho già cominciato a pensare che mi era mancato. E poi ho già capito la cosa che mi era mancato. Omar. Io ero stato a Napoli e non avevo visto Omar. Ma forse mi è riuscito a morire. E allora è passato un po' di tempo e ho già pensato che avevo mai io a Napoli e vedevo Omar. E si è minuto a Napoli e avevamo visto Omar. Ma poi, tornando a casa, ci siamo accorti che non avevamo visto i presebbi. E allora volevo dire che mi è riuscito andato a Napoli. Ma poi, mi sono consulato, pensando che ero quasi Natale. E allora, dopo pochi giorni, e poi sono andato a Napoli per dire San Gregorio Armeno. E poi, ecco si è andato a Napoli. E qui ho preso velato e il Castello Sant'Elma. E via condicendo. Insomma, ogni volta che sono venuto a visitare questa città, così pieno di fantasie e misteri, le luci mi esallombra, era moita. Ma che pure di fare questa buona, in santa pace, entramente che ci stai a rinda, mi sono ottenuto a parte qualche cosa che non avevo visto e non avevo sentito lo saputo. Era come se mi avessi voluto creare tutto per me una specie di comandamento che non mi piace. Anzi, mi piace. Perché per me non è vero come dicevano che la vita di Napoli è poi muore. Se la vita ti prendi una malattia che puoi curare, ci hai tornato un'altra volta. E poi è nata ancora. E poi è nata ancora. E poi è nata ancora. E poi è nata ancora.